Feci il ritiro con la primavera, poi scesi in Beretti e la prima partita la feci in Coppa Italia, mi ricordo a Modena dove vincemmo 1-0 e poi da lì, più o meno da gennaio, incominciai anche a giocare con più frequenza, un po' per gli infortuni, un po'... Sempre terzino, destro, sinistro, per te non ha mai fatto differenza o invece sei cresciuto in un ruolo preciso? No, io durante il corso degli anni comunque ho giocato in diversi ruoli, cercando di adattarmi, partendo da centrale, andando un po' a destra, un po' a sinistra Io comunque cerco di migliorare, di apprendere qualcosa in tutti i ruoli perché conoscendo e avendo la capacità in più ruoli è più facile sia giocare e soprattutto puoi contribuire dando il tuo contributo durante la partita A proposito, insomma, parlavamo prima di eredità paterna, tu lo sai che per tutti i tifosi del Razzurro, almeno per qualcuno, per me ad esempio, il nome Paramatti ci evoca Ricordi non piacevoli perché tuo padre è stato un ottimo difensore, ha giocato tra le altre per lo più nel Bologna, una stagione anche nella Juventus Non ci ha segnato con la maglia della Juventus, ci ha segnato quattro volte su 15 gol, credo, totali in Serie A all'Inter Insomma, per cui ogni volta, poi tra l'altro in momenti particolarmente significativi, qui li stiamo anche vedendo Questo è quello che fece a San Siro, credo, nel 98, che rimase un po' a tuo padre Ti assomiglia un po' come tipo di giocatore? Anche lui era molto battagliero, molto grintoso Ne avete mai parlato sia di questi gol che in generale della sua carriera? Beh, a casa ogni tanto si parla un po' della sua carriera, dei suoi gol, in particolar modo Mi mostra sempre i gol Tu sai che adesso dovrai vendicarli, cioè dovrai segnare tu qualche gol Beh dai, la fortuna dice anche lui e lui sono io, quindi io cerco di dare al massimo punto per l'Inter Non ti avrai pesato questa cosa? No, sinceramente no Avere padre che ha giocato in Serie A e quindi... No, 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 per me Ovviamente immaginiamo che da quando hai cominciato, da otto anni, la gente leggeva la distinta Sì, comunque un po' la gente può parlare, però sinceramente non è mai passato Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando Vai su sky.it o chiama 199 11 44 00 Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...